Altro stand interessante, Shad, Shad marchio spagnolo che si sta facendo notare per la produzione di borse espandibili davvero particolari e molto interessanti. Si tratta di borse rigide, quindi anche se nella loro produzione ci sono anche quelle morbide, classiche, anche esse espandibili, queste sono nuovissime, hanno la caratteristica di essere appunto espandibili e addirittura il 40% in più, il volume che si può recuperare. Quindi sappiamo tutti quanto sia importante quando si viaggia magari in un contesto urbano avere la moto un pochino più compatta e poi nel momento in cui la gita, il viaggio del weekend, avere un attimino di capienza in più è preziosissimo. Loro hanno studiato un sistema che è brevettato che consente alla borsa di espandersi il 40% in più, tra l'altro ha la particolarità di avere una sorta di cintura interna, anche questa brevettata, con chiamiamole dei tiranti, che fanno in modo che anche quando tu hai la borsa aperta, adesso vediamo se riesco a farvi vedere, quando hai la borsa aperta per sbloccarla è sufficiente aprire questi flap e la leva superiore e poi, in questo momento è espansa, vedete, si può aprire e chiudere anche facendo pressione non in maniera uniforme, lei in sostanza è cinturata, è come se fosse un tutt'uno, questa è una tecnologia che loro hanno brevettato, che hanno così, diciamo, tra virgolette rubato l'architettura che rende questa struttura così stabile, solida e funzionale. Gli agganci disponibili, questo più leggero, quindi una singola barra superiore, oppure quello classico, diciamo, chiuso, più robusto. E poi come optional, la borsa interna, anch'essa, espandibile, molto bella. Bene, dallo stand Shad è tutto, mi raccomando, se siete interessati all'argomento, continuate a seguire il nostro sito, ci saranno approfondimenti e noi continuiamo con il nostro giro e al prossimo video.